Libertà, la loro vita. Sono qui per tutte le donne migranti che sono state torturate nelle nostre carceri nel mio paese, da dove vengo. Sono qui per chiederle scusa, non solo del mio nome, ma di tutti gli uomini e di tutte le umanità. Sono qui per tutta la comunità LGBT che non possono scegliere la loro vita, che non possono vivere. Sono qui per tutte le donne e tutte le bambine in Libia, in Iraq, in Siria, che sono vettime di questo sistema internazionale in realtà. Sono qui per dire, dedico tutta la mia vita per lottare, per vedere un giorno tutte le donne, tutte le persone, tutti gli esseri umani liberi di scegliere quello che vogliono. Grazie. Buono Tommaso. Grazie.